Prevede quest'anno per il 2021 l'inizio dei nuovi corsi di laurea con solo 24 posti in più su base regionale rispetto agli infermieri programmati. Ma di voi a Vicenza qualsiasi ne sono? Allora, i corsi sono, diciamo, non ti so dire, le programmazioni sulle scuole Vicentino, spetta notte nel 2014. Avevo il dato dei corsi banditti su base regionale, sono circa 1195, ma dopo ti guardo il dato, che sono posti per studenti che sono solo 24 in più rispetto al dato dell'anno precedente. Dopo però il primo te lo riguardo perché non me lo ricordo a memoria. Allora, su questo...